Ecco, ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro peloso e gigante. L'unico esempio rimasto di mostro a sé zampe. Quanto mi piace vederlo passare. Cosa farei per poterlo toccare? Dicono che sia capace di uccidere un uomo. Non per difendersi, solo perché non è buono. Lo dicono loro, che sono scienziati affermati. Classe di uomini esperti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. E alla ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale. Ma l'unico spazio che c'è è quel vecchio cortile. L'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo show è servito. Questa è la tana del mostro, lo abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto. Classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. Basta passare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che morto, sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione. Classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Vorrebbe farsi un letargo e prova a chiudere gli occhi. Ma lui sa che il letargo viene solo d'inverno. Riapre gli occhi sul mondo. Questo mondo di mostri che hanno solo due zampe. Ma sono molto più mostri. Gli resta solo una cosa. Chiamare il suo mondo lontano. Lo fa con tutto il suo fiato. Ma sempre più piano. Vorrei poterlo salvare. Portarlo via con un treno. Lasciarlo dopo la pioggia. L'acqua sotto l'arco baleno. L'acqua sotto la spera. La pemba. La planeitä a servi Mein다는. L'acqua sotto l'arco baleno. Grazie a tutti.